eppure altro mi ha creduto insomma non sono con un uccello ma non sono proprio ma anche vecchio no sono rimasto legato alla tradizione capite mi piacciono quelle cose tradizionali che sacchia natale tutta la famiglia è tornata a tavolo capitoni cioccia marito mogliere figli o nonna non a romerica per me a romerica di assaltare natale e ti ha usare i cacchi di cemento in uccello spazio sono legato sono legato alla tradizione ma pensiamo proprio la stessa maniera anche io sono legato alle tradizioni per esempio c'è uno in particolare come si vogliono e mo io per esempio sono stato fidanzato con mia moglie dieci anni credimi non ti ha fatto mai amore prima mi scusavo bravo e tu non lo sai ci? Muller da signorina come si chiamava?